bondi motta motta bondi cari i miei bei ragassuoli c'è qualche romagnolo che mi scrive la pisetta la piadeina va bene ringrazio anche tutta l'emilia romagna che mi segue numerose fanno morire quando vedo a voi non fanno morire quando sono certi youtuber no magari emergenti magari per carità no con qualche centinaia di iscritti come sottoscritto che niente di che insomma non inizialmente e mi fanno morire quando si danno queste arie da grandi cioè a livello di foice no che magari ha superato il mezzo migliore che sono tanti mezzo mila di iscritti bisogna agli atto che ha fatto una gran cosa con quel canale poi piaccia non piaccia però i numeri gli danno come danno ragione a miletto purtroppo dico perché non riesco ancora a capire come faccia miletto e gli stringo la mano il chapeau perché per i contenuti che porta a riuscire avere 300 quasi 400 mila iscritti veramente bravo cioè tanti ci hanno provato come lui e non ci riescono con quel fisico con una persona preparata per carità di dio però riuscire a parlare di bodybuilding quando non sei un bodybuilder non hai a quanto mi risulta gareggiato mai anche come sottoscritto alla sagra dell'oratorio poi sagra dell'oratorio fatto anche gare fiat voglio dire che sarebbero le fbb di allora quindi senza mai avere risultati eclatanti sì ho vinto qualcosina mi sono piazzato in alcune gare non ho combinato un cazzo però voglio dire no quella condizione di aver fatto qualcosa c'è quanto mi riguarda mi ripara ma si può dire certe cagate a quanto per quanto mi riguarda io fate queste cose no quindi onore a loro stavo dicendo e mi fa morire sta cosa ho divagato perdonate fa morire sta cosa che tanti quando ricevono uno barra un commento dall'emilia romagna faccio un esempio come successo a me vabbè io non ho ricevuto più di uno ma parliamo sempre di poca roba no è un saluto a tutte le miglia romagna ringrazio tu tutti 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 i romagnoli che mi seguono con piacere io la romagna l'abbraccio la può essere mia romagna come la lombardia come il piemonte come la calabria come le marche come qualsiasi altra regione e questa è una cosa che mi fa incazzire 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 ragazzi sto invecchiando perdonatemi ma ogni tanto sarà la vinchiera sarà non lo so sono un vecchio eh voglio dire ogni tanto mi perdo via quei termini che è una cosa che da giovane non mi capitava probabilmente uno proprio con l'età un po' rincoglionisce c'è cazzo da fare attenzione rincoglionisce da un punto di vista del linguaggio non da un punto di vista del pensiero lì vi garantisco che non sono rincoglionito per un cazzo ma il mangiarsi la parolina saltare la cosa dire cambiare la vocale con un'altra cioè no no al posto dell'a e così questo con l'età devo dire purtroppo che succede vabbè parentesi enorme di inizio video di 3.32 ho portato un sorriso spero a tutte le miglia romagna alle marche grazie a tutta l'italia che mi segue un saluto a tutti gli italiani che so che mi seguono con amore tutta l'italia tutti i 60 milioni ma perché che vabbè torniamo a noi simpatica divertente spero parentesi tema del video sarete magri e grossi nel 2020 estate 2020 sarete magri e grossi inizio del titolo del video del grande qual la sono dove dice delle cose che vorrei analizzare un attimino con voi in modo abbastanza pacato senza voler dargli addosso per forza ma cercando di portare un'anamnesi della situazione con oltre la pacatezza di cui prima anche con la giusta imparzialità per quanto mi sarà possibile sapendo che è un personaggio che non mi va a genio per la questione specifica della maschera e soprattutto per l'atteggiamento da deus da deo greco quindi analizziamo partiamo da due presupposti devo ricordarmi tutti abbiate pazienza potrei anche scazzolare questo lamentato io adesso sto termine il video perché non ho una scaletta sto facendo una roba così domenica mattina alle 11 e 20 prendiamo in analisi due situazioni cioè quello che dice se fosse non dopato e quello che dice se fosse dopato analizziamo vedrete che in entrambi i casi purtroppo la situazione non è quella che sembra chiaramente sempre a mio avviso mettiamo che lui non si doppi nel video dice dura 10 minuti se non fate errato circa nel video dice usa questi termini qua supereroe un superuomo ha sempre questa cosa di portare all'ennesima potenza il la figura dell'essere umano no cioè è questo da un punto di vista del marchi marketing rivela la sua capacità di interpretazione da un punto di vista psicologico delle persone soprattutto quelle giovani ok perché ha fatto il poliziotto perché è una persona intelligente uolos attenzione non è un cretino e non è uno stupido non è un ignorantone poi come posso dire su certe cose ha delle lacune enormi ma di fondo non è una persona poco intelligente ok diciamo così lui è un personaggio molto discusso e approfitta anche un po di questa cosa ma tralasciamo un attimino questo questo discorso stavo dicendo personaggio che usa questi termini supereroe volete essere dei falliti volete essere dei vincenti non sembra ma andate a vedervi qualche piccolo se avete tempo trattato di psicologia riguardo tutte queste terminologie dette da una persona che assurge una figura abbastanza tra virgolette importante nel mondo del del fitness e del bodybuilding prende un significato profondo a livello del subconscio cioè se lo dice un picco pallo arrivato ieri può avere un effetto ma è relativo se lo dice uno che ha affermato da anni e che è riuscito grazie anche questa sua prosopopea questa esaltazione cosmica pseudo religiosa ad attirare le persone assume un dei contorni rilevanti da un punto di vista psicologico cioè queste parole dette da lui perché non sono solo le parole ma anche chi le dice come le colpiscono nessun conscio le persone più giovani è un'analisi che io faccio conoscendo ma così non voglio fare il psicologo conoscendo qualcosina di psicologia visto che io frequento tuttora un cps vado dallo psichiatra perché qua in italia si ha l'idea che se uno va dallo psichiatra è un pazzo non funziona proprio così no ok quindi mi sono sempre un po interessato di queste cose e devo dire che poi quando vai a leggere vai a vedere vai no entri nel anche nel cosiddetto behaviorismo di behavior cioè del comportamento insomma tu ti rendi conto che effettivamente queste parole colpiscono il subconscio soprattutto dei più giovani cioè di quelle persone che non hanno ancora una persona personalità una personalità ben definita o comunque ben strutturata o comunque forte radicata solida chi è in questa situazione non perché non ha carattere ma chi delle volte è dovuta alla gioventù e all'immaturità che si è quando che si ha quando si è giovani ci sono passato io ci sono passati tutti no ok you know sta cosa degli un no mi fa morire vabbè quindi utilizzando questi sistemi in modo perdonate il gioco di parole sistemico perché lui le riporta sempre queste parole ok che il suo modo superante ok che il suo stile ok che il suo atteggiamento ok che il suo modo di parlare ma punta molto su quello proprio perché non essendo uno stupido ha capito che da un punto di vista del marketing cazzo se funziona cazzo se funziona cazzo se funziona you know quindi utilizzando questa terminologia fa sì che le persone si possano tra virgolette illudere di dire se lui dice che sono un super uomo vuol dire cioè che posso scusatemi arrivare a essere un super uomo un super eroe come lo è lui diciamo così io posso arrivare posso assorgere a quella figura perché lo dice lui e perché non me ne accorgo neanche che faccio questo ragionamento perché quelle parole che usa mi colpiscono il suo inconscio quindi non è neanche completamente cosciente una persona e fa il ragionamento articolo a dire siccome che lui ha detto questo ma sono dei meccanismi automatici che si stavano nel nostro subconscio ok quindi per quello che dico una persona intelligente ha capito che da un punto di vista del marketing questa cosa paga poi chiaramente avrà i suoi detrattori e non andrà mai a fare una copertura a tappeto dove avrà secondo me è 500 mila follower come a foice spiego perché foice secondo me nonostante tutto da quel punto di vista dell'entrare nel subconscio è un po meno sudolo ed è un po meno come posso dire inquadrato no cioè quindi mettiamo che sia natura ritorniamo al discorso di prima e faccia questi discorsi dovete tenere presente che i natural i limiti lui fa vuole far apparire le cose come se non ci siano limiti l'ha già detto anche in altri video i limiti ci sono per poter essere un super eroe o meglio un super uomo ti devi dopare cosa che non consiglio non è che dico dopatevi per arrivare a quello dico che per avere quella condizione per come le intende lui anche virgolettata anche se super eroe chiaramente un modo di dire come super uomo ma per arrivare arrivare a quella condizione che lui intende uno deve usare doping se no non ci arriva ci sono i casi eccezionali molti genetici ma sono eccezioni che non fanno altro che confermare alla regola quindi in quel caso è inattendibile quello che lui dice perché arrivare a quei livelli da natural è impossibile a parte per i fenomeni genetici o quelli particolarmente predisposti e comunque e o comunque con la genetica della madonna cosa che probabilmente se prendiamo in analisi la prima ozione che ho detto all'inizio e cioè se è natural a quel punto lui ha se è natural quindi anche in questo caso cioè se è natural non è attendibile quello che dice cioè non è verificabile come posso dire non 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 va non viene portato non può andare in porto una condizione genere per chiunque e lui la mette sul piano che per chiunque basta la volontà non è così partendo dal presupposto se è natural e professa ai natural ok forse non sono riuscito a essere molto chiaro ma prendiamo in ipotesi la seconda soluzione che era più semplice mettiamo che sia invece un dopato usando il soft doping termine che ho cognato io nel senso cioè usando determinati prodotti magari non usa faccio un esempio sono tutte illazioni non sto accusando nessuno capiamoci sono tutte cose campate in aria che io dico è cioè non sto instillando dubbio di niente dico come può essere natural come non può essere quello che uno dice una persona perdonatemi ma lasciamolo un po da parte ok non sto accusando nessuno ribadisco sto prendendo in esame due eventuali condizioni che potrebbero o non potrebbero verificarsi o essersi verificati o verificarsi in futuro quindi nel caso si dopo che attendibilità avrebbe cioè parla in natural e poi lui è uno che si dopa faccio un esempio dicendo che non si dopa sto portando l'esempio per far capire in questo caso che anche qui se fosse un dopato non puoi dire e vabbè ok si dopa però quello che dice è vero no non è vero perché lui dice che si può arrivare a essere dei super uomini che i limiti sono dentro nella testa per le persone natural se lui ipoteticamente si dopasse sarebbe una presa per il culo galattica quindi nel primo caso è inverificabile non si può verificare per i natural partendo dal presupposto che lui sia natural dando per scontato mettiamola così nella prima ipotesi che lui sia natural non è non si può verificare una condizione del genere come la mette lui anche se è molto bravo a lavorare sul subconscio delle persone soprattutto quelle giovani usando dei termini forti volete essere falliti volete fare dovete poi all'interno magari ci sono anche dei buoni consigli da un punto di vista dietetico dell'allenamento del principio dello stato di forma per carità non sto discutendo quello sto discutendo il fatto come ho risposto nel video precedente ieri a leoboros che ricordiamoci che ricordiamoci che l'onestà intellettuale un po' di importanza la rileva in questi casi porto l'esempio mio se io domani monetizzo se io domani faccio i seminari non è che mi fa schifo non è che dico no in primis perché mi piace e in secundis perché porta soldi uno che dice non è vero cioè scusatemi uno che dice eh ma se allora guadagni vuol dire che quello che dici è tutto fino al guadagno non è proprio così io potrei continuare a dire le stesse cose che dico adesso per farvi capire la differenza ma guadagnando dei soldi cosa cambia sì probabilmente in funzione di quello che dico per i soldi cambia che magari prima non pubblicizzavo gli integratori che ne so di una determinata marca adesso sì cioè ok ci sono dei cambiamenti ma l'onestà intellettuale principale di base cioè essere quello che sei apportandosi delle modifiche perché entra uno sponsor entra una condizione di guadagno e quindi non è che puoi fare quel cazzo che vuoi perché è giusto così ma sempre all'interno di un'onestà intellettuale intellettuale che cos'è l'onestà intellettuale ve lo spiego in due parole già l'ho detto nell'altro video se un domani arrivi uno mi dici mentre sul piatto lì mi dice to 2000 euro adesso mi devi dire che tu fino adesso su master wallace ti sei sbagliato l'hai detto per motivi inventiamoci noi un motivo e che quindi master wallace è un figo della madonna ha ragioni su tutto e a te non ti sta assolutamente sulle balle non lo farei mai non esiste cioè nessuno mai arriverà a darmi 5 milioni di euro per fare una roba del genere quindi non fate le domande da scienziato e voglio vedere se uno ti mette lì un milione di euro ma che ragione a me l'è? non cadrà mai nella vita quindi non mi pongo quel problema e non dico neanche magari perché non me ne frega un cazzo cioè voglio dire sono cose talmente assurde fuori dal mondo che anche se parte il presupposto che ognuno ha il suo prezzo nella realtà della la vita che non sempre poi corrisponde a del denaro codesto prezzo ma ripeto in entrambi i casi esaminando quello che dice lui nel video è lo ritengo non inattendibile perché non è corretto quello che c'è all'interno o dietro il video da un punto di vista dei consigli tecnici no anzi molte volte sono anche validi ma dell'onestà intende onestà con due n onestà con due n ma come cazzo stai messa andrei da un punto di vista dell'onestà intellettuale è lacunario cioè fa acqua sia con l'esempio che ho portato precedentemente in caso fosse natural probabilmente lo è per carità non accuso nessuno anche se la mano sul fuoco non ce la metto per nessuno sia nel caso si dobbia you know ok all right cari miei shuri e shurel come diceva la mia mamma a salire di tutti quanti va bene stato un piacere video un po lungo magari a qualcuno interessa le quattro cazzate che ho da dire e se lo sparapazza tutto non c'è neanche pubblicità non ci sono neanche interruzioni dovete avere una bella pazienza per sopportare i sottoscritti se mi guardate vuol dire che un sorriso una riflessione riesco a farvela fare e a me questo fa piacere sono un presuntuoso da questo presuntuoso sono a cui piace alimentare il proprio ego con queste cose senza scadere nel deus greco alla wallace e quindi avrei proprio del piacere mio personale nel vedere che qualcuno sopporta un video di 19 minuti durato tantissimo io no signori buona domenica a tutti è stato un piacere vi ringrazio per le testimonianze di seguito che mi state dando per gli iscritti che stanno entrando piano piano come andrà andrà va benissimo e grazie ancora a tutti bye bye buona domenica e buon dimontro a tutti ciao